Ha suscitato commenti, dibattiti, approvazioni e anche proteste il nostro servizio relativo alla lecceta di Torino di Sangro, splendida riserva regionale dalle grandi potenzialità gestita dalla cooperativa Terra Coste che ormai da dieci anni, oggi proprio il suo compleanno, tanti auguri, profonde energie e risorse regionali ed europee, dunque soldi pubblici, dunque soldi nostri, per la sua valorizzazione. Nel servizio andato in onda lo scorso 31 di agosto veniva però rilevato, su segnalazioni di alcuni appassionati di mountain bike, lo stato di alcuni tratti del perimetro, con rifiuti, cocci, letti e arrugginiti in bella vista. Le immagini hanno parlato chiaro. A margine della riserva, in un territorio lì vicino, oltre 60 bidoni della raccolta rifiuti messi lì dopo il passaggio alla differenziata adottato dal comune di Torino di Sangro. Le intenzioni del Tg Max non erano quelle di destabilizzare o scoraggiare l'operato dei giovani della cooperativa, tutt'altro, tantomeno di entrare nelle delicate vicende politiche del paese prossimo alle elezioni. L'amore per l'ambiente non ha colori e sul verde non si specula. Tanti servizi positivi relativi alla lecceta ad opera del Tg Max negli ultimi anni, ma ne è bastato uno critico per sensibilizzare e migliorare, per scatenare alcune proteste e offese, anche ingiurie. No, così non va. In attesa delle doverose repliche di sindaco e presidente della riserva, rispettivamente Domenico Antonio Pace e Andrea Natale, già sollecitati dalla nostra redazione, vogliamo chiarire però un aspetto, e cioè quello relativo al contestato fuori onda nel quale sotto le immagini dei leci si è sentito un stiparassiti. Apriti cielo, in mille congetture e l'accusa di voler male a priori a qualcuno. Invece, sentite il dialogo integrale dell'intera sequenza registrata nel silenzio del bosco. Liana, sti parassiti, sti parassiti. Testuale in dialetto, le liane, sti parassiti, le erbe. Chiaro il riferimento a specie di edere che si avvolgono al tronco degli alberi. Chiaro o no? Cade dunque un'accusa pesante. Dietro il servizio non c'è nessun detrattore o manipolatore o giornalismo prezzolato o servizio ingannevole. Tutte fantasie, il parassite in questione è solo un vegetale, non un essere umano o un vegetale politico. Ingiustificate dunque tutte le offese e congetture, persino di chi ha affermato di non averci mai visti trattare argomenti del genere, tanto meno di conoscere la lecceta. Anzi, quello forse sì, visto che non sapevamo che in quei posti crescessero funghi allucinogeni capaci di far vedere a qualcuno quello che non è. Allora, risentite e buona serata. Allora, risentite e buona serata. Grazie.